Se devo dare una definizione di questa triade, insieme direi è la chiave inglese che usa Lacan. Lacan smantella e nello stesso tempo rimodella tutti i concetti freudiani utilizzando questa chiave. Diciamo che questa triade Lacan la riprende tutto sommato da Lévi-Strauss, l'immaginario è il rapporto tra una persona e un'altra, il suo proprio doppio, il proprio simile, il tipico rapporto immaginario è il rapporto tra madre e bambino, il simbolico è dove già interviene il simbolico in quanto tale che, secondo l'Oedipo, è rappresentato dal padre. Per quanto riguarda invece il reale, ebbene Lacan ci mette tempo per differenziarlo, se si può dire così, dalla realtà. La realtà è piuttosto rinviata sulla coppia immaginario-simbolica e possiamo dire che il reale riguarda l'ordine del godimento, come dirà alla fine l'insegnamento di Lacan. Per quanto riguarda l'insegnamento di Lacan,